Usatemi la faccia al viso tutto, la luce soprattutto che ho una luce veramente bruttissima con serine di sottofondo Dobbiamo prepararci insieme per andare al comprensimo di mia mamma che festeggia i suoi 42 anni E non so che mettermi, quindi lo sceglieremo insieme Avevo già in mente qualche idea Avevo pensato a questo, questo sarebbe così Di Opolli, molto molto carino Anche questo nuovo di Bershka, molto carino Da qui sembrava semplice ma in realtà è molto bello Molto scollato, cioè dovrei tenermi addosso un blazer e io assolutamente non ho voglia Ultima scelta è questo di Shane Non so se vede, è pieno di brillantini Quindi quando mi metto ho deciso questo Mi desto e poi passiamo alla fase trucco Mi leggo i capelli e passerò al gioco del silenzio Perché mentre mi trucco non riesco a parlare anche Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.